Sabato 9 luglio alle 21 al Teatro Alexander Girardi Hall, Cortina in Croda 2011. Monsieur Deodat de Dolomier, prima serata della Kermesse dedicata alla montagna al femminile. Quest'anno il colore della manifestazione è il rosa, in tutte le sue tinte. Ospite speciale, l'opinionista Dacia Maraini, con Giovanni Campeol, Fondazione Unesco, e il fotografo di montagna Alberto Bregani. Sabato 9 luglio alle 21 al Teatro Alexander Girardi sei invitato a Cortina in Croda, terza edizione, ingresso gratuito. Diretta radio su www.radiocortina.it Radio Cortina, dal 1976, la radio delle Dolomiti.